Buongiorno e Oli, dalla live di Sasa Santomauro, Latino America dalla live di Nadia Solange, in serata Sunset Disco Zimmari con Sasa, la radio che ti tiene compagnia tutti i giorni. L'orario lo scegli tu. I sogni sono sempre accompagnati da una colonna sonora. Radio Zimmari, il sogno di una vita. Eccoci qua, eccoci qua nuovamente amici, ben ritrovati su Radio Zimmari, Sunset Disco. Con chi? Bene, ben arrivati amici, New Entry per Radio Zimmari, due new entry importantissimi. Gli amici cieco-slovacchi, esattamente da South Moravian, dalla città di Bo. E poi direttamente da Nord Sumatra, amici dalla città di Medan. Gli amici dell'Indonesia, ben arrivati, ed era già da pare, io dico new entry, però new entry non sono perché sono già parecchi mesi che non erano più con noi. Buonasera e oli e buonasera mondo. Serata tranquilla, giornata di sole, devo dire che oggi è stata veramente una bella giornata, senza neanche un filo di vento. Questa è la cosa più importante per voi, per noi. bene arrivati anche alla nostra Milano del Sole, Catania. Buonasera anche agli amici di Nicolosi. Bene arrivati anche i nostri amici di Enna e di Gela. Buonasera a Palermo. E allora amici, che dite? Andiamo subito al disco pilota di questa terza ed ultima da Live, Sunset Disco Zimari. Radio Zimari, a tenervi compagnia nei vostri momenti di allegria o malinconia. Con Sasa Santomauro. Disco pilota amici, storia. Carlin Anderson. Blue Lab Bats. All right. Sigaro. De Panare, amici. Radio Zimari. Sunset Disco. Per voi, per noi, per loro. Sunset Disco. Funset Luis offense. I sogni sono sempre accompagnati da una colonna sonora, Radio Zimmari, il sogno di una vita. I sogni sono sempre accompagnati da una colonna sonora, Radio Zimmari, il sogno di una vita. Il senso di Radio Zimmari è la possibilità di mettere davanti a un microfono la gente che si vuole, nei momenti che si vuole. Radio Zimmari presenta il notiziario delle Isole Oni, con le interviste di Gennaro Leone. Radio Zimmari, a tenervi compagnia nei vostri momenti di allegria o malinconia. Con Sassà Santomauro Carlin, Anderson, amici, disco pilota, storia. For you, together. All right. Come on. Anche stasera, amici, daremo qualche notizia. Una la notizia davvero che ha fatto discutere un po' tutta l'Italia. Si parlerà ancora di Matteo Messina De Naro. E poi le rivelazioni di Andrea Agnelli. E poi ancora Cospito. Perché fa lo sciopero della fame? E perché non augura nessuno il 41 bis. Tutto questo, amici, su Radio Zimmari, con Sassà. Storias, amici, e noi andiamo avanti, andiamo, andiamo, continuiamo. Intanto salutiamo Roberto e Alessandra, rispettivamente da Taormina e da Giordini Nazzo. Continuiamo ancora, arrivano i Meet Electric, Breaking Free, Together, Forever. Radio Zimmari, amici, che trasmettono da Panarea, Isole Olio. A tenervi in compagnia in questo mercoledì primo marzo. Sempre, sempre lui. Chi? Si sa? Chi? Che primo può? Arriverà. Grazie a tutti Grazie a tutti a tutti in Grazie a tutti Grazie a tutti a tutti Lui è SSA Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari Web. Lui è SSA Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari. Lui è SSA Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari. Lui è SSA Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari. Lui è SSA Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari. Lui è SSA Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari. Lui è SSA Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari. Lui è SSA Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari. L'atmosfera è giusta in questo mercoledì, primo febbraio. Prendi il tuo tempo. Salutiamo l'amico fraterno Maurizio Ferrara. Non c'è la doccia e il consorte, Madame Carua. Oh no. Oh no. Sì. 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 Buonasera agli amici o buon pomeriggio agli amici del Sud America. mi ero dimenticato di voi ragazzi. Perdonatemi. Davvero. Davvero. Bene arrivati gli amici di Lima. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Da voi è pomeriggio ancora? O no. Quattro o cinque? Cinque o quattro? Buonasera. 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 The Last Dance amici Mini Strobo Funky E noi continuiamo ancora Arrivano Cerrone, Brandy, Royal E Margen con The Holy One Come Radio Zimano Che trasmette da Panarea Isole Olie Sempre senza sento mauro a tenervi compagnia Compagnia Euforia Salutiamo ancora gli amici indonesiani Salutiamo anche l'amico Roberto Guzzelli Ricordando ancora gli anni che fu Who's gonna be the only one Who's there to catch me The only one Who's got to have me The only one To make me crazy The only one To give my heart true You are the one The only one You are the one The only one You are the one The only one You're the only one For me Bring it on Bring it on Walk like a playboy Get it down Where I feel you Da Panarea Radio Zimari Con Sasa Santomauro Don't you know You'll be the one The only one Who's there to catch me The only one Who's got to have me The only one To make me crazy The only one To give my heart true E allora che dite Ci fermiamo Dopo la fine di questo brano Ci fermiamo Diamo qualche notizia Le notizie più importanti Sono tre notizie Però che hanno Che sono notizie Proprio di giornata Nel senso come edizione straordinaria Anche perché è quello che è successo È un po' Tutti quanti trovano scalpore Il fatto che Matteo Messina Denaro L'abbia dovuto uscire Si è uscito dal carcere di massima sicurezza Scurtato E vabbè ma perché Cosa c'è di strano Dico io Cosa c'è di strano Niente Anche perché è super scurtato L'ospedale è super blindato Per cui Ma adesso amici Ascolterete un po' Quello che abbiamo da dirvi Amici ricordo sempre Chi si è appena collegata Che questa è il Radio Zimmer Che trasmette da Panarea Isoleoli Sasa Santomauro Potremmo tenervi compagnia In regia Madame Nadia Sul Anche 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 Accertamenti medici per Matteo Messina Denaro All'ospedale San Salvatore dell'Aquila Il Bossi di Cosa Nostra ha lasciato il carcere per essere trasferito al Naso Comio Che è stato letteralmente blindato per ore Il padrino di Castelvetrano è stato guardato a vista da carabinieri Polizia penitenziaria e agenti del GUM Il nastro rosso ha circoscritto il perimetro del G8 dell'ospedale dove Messina Denaro in cura per un tumore è stato trasferito nella giornata di ieri Secondo quanto è stato possibile appurare il boss è stato sottoposto ad una serie di controlli di routine e a quanto pare un attack strumento non presente all'interno della stanza infermiera realizzata ad hoc proprio all'interno dello stesso penitenziario dove viene sottoposto regolarmente a chemioterapia In serata intorno alle 18 ha infine lasciato l'ospedale per far rientro nel carcere di massima sicurezza Distante 7 chilometri nella frazione di Preturo dove è detenuto in regime di 41 bis Intanto continuano le indagini dopo l'arresto di Messina Denaro per cercare di ricostruire gli anni della latitanza E' stato reso noto un video di 10 secondi che smentisce la parola di Andrea Bonafede Cugino e omonimo del geometra che ha prestato l'identità al boss E' da qualche settimana in carcere per favoreggiamento e procurata in osservanza di pena Buongiorno Eoli dalla live di Sassà Santomauro Latino America dalla live di Nadia Solange In serata Sunset Disco Zimmari con Sassà La radio che ti tiene compagnia tutti i giorni L'orario lo scegli tu I sogni sono sempre accompagnati da una colonna sonora Radio Zimmari Il sogno di una vita I PM Gianluca De Leo e Pietro Pado hanno depositato al Tribunale del Riesame di Palermo Al quale Bonafede aveva fatto ricorso contro l'ordinanza di custodie cautelare Un filmato girato da alcune telecamere di sorveglianza piazzate a Campobello di Mazzara Un paese in cui Messina Denaro si nascondeva e che smentirebbe lo stesso Bonafede Che ha sempre ribadito di non conoscere l'ex latitante Nel filmato infatti si vede l'uomo a bordo dell'auto usata dai messi del comune Incruciare la Giulietta del capomafia I due veicoli arrestano la marcia e il boss e l'impiegato comunale si fermano a parlare E ancora un'altra notizia Questa la struttura risulta sorvegliata dai carabinieri e dalla polizia penitenziaria Negli agenti del gruppo operativo mobile Gop incappucciati Inoltre l'intero perimetro risulta circondato dal nastro della polizia Secondo quanto appreso il boss Ha iniziato il ciclo di cure oncologiche presso l'ospedale che al suo arrivo è stato blindato E andiamo un po' a parlare della confessione su Agnelli che fa tremare la Juve Mi dimisi perché capì che stava crollando tutto L'ex consigliera indipendente del CDA della Juve Daniela Marilungo ha raccontato ai magistrati la spada di Damocle Che ci rappresentavano Agnelli e Gabasio Era che se non avessimo approvato il bilaggio entro una certa data Non ci saremmo potuti iscrivere al campionato Il 27 marzo ci sarà l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma sui bilanci della Juventus Dal 2018 al 2021 Condotta dalla procura di Torino e nelle scorse ore è stato depositato presso il giudice Il faldone relativo agli atti integrativi Davanti al gruppo Marco Picco verranno discusse le richieste dell'invio a giudizio Per 12 indagati tra cui l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli E l'ex vicepresidente Pavel Nedven E la richiesta della stessa società bianconera di spostare il procedimento da Torino a Milano Sede della Borsa Ci sono falso in bilancio L'attottaggio L'ostacolo alla vigilanza Consob E le false fatturazioni Con il sistema delle plusvalenze fittizie E la manovra stipendio Tra i reati contestati dai magistrati In seguito alla chiusura delle indagini e risalente al 24 ottobre scorso I procuratori della Repubblica hanno continuato a lavorare E tra dicembre e gennaio Hanno raccolto un faldone di circa mille pagine per gli atti integrativi Diverse pagine sarebbero dedicate anche a Deniera Marilungo Componente dell'ex CBA Della Juventus Maria Cristina Zoppo E Alessandro Forte I due membri del collegio sindacale Inoltre ci sono le audizioni anche di alcuni ex calciatori bianconeri Come Di Bala e Mandragola Proprio la testimonianza di Daniera Marilungo Secondo le indiscrezioni riportate da Lorenzetti e Nerozzi Sul Corriere della Sera Potrebbero creare qualche problema ad Andrea Agnelli Il colloquio in procura dell'ex consigliere d'amministrazione indipendente della Juve Avvenuto il 12 gennaio scorso È durato otto ore e sono state percorse tutte le tappe a cui è arrivata Alla decisione di dimettersi il 25 dicembre e novembre scorso Tre giorni prima della scelta di tutto il CDA bianconero In quei giorni i vertici bianconeri avrebbero provato a convincerla a tirare le dimissioni E la Marilungo ha rivelato come l'ex presidente della Juve volesse approvare al bilancio a tutti i costi senza restatement Correndo anche il rischio della mancata iscrizione al campionato o la penalizzazione in classifica L'ex consigliera ha parlato della fretta della Juventus sul deposito del bilancio da parte del CDA La società di revisione dell'OIT aveva espresso riserve Se il consiglio non depositava il bilancio non ci potevamo iscrivere ai campionati La spada di Damocle che tutti ci rappresentavano era questa delle iscrizioni alle varie competizioni sportive Daniela Marilungo si è detta all'oscuro anche della scrittura privata Chiellini Agnelli Sulla prima manovra stipendi del 2020 Così come delle street letter della seconda manovra stipendi 2021 Non ho mai ricevuto dalla Juventus questi documenti Sempre secondo l'edizione moderna della Corsera L'allora consigliere indipendente viene avvisata dal proprio legale di non approvare nulla Non approvare questo bilancio altrimenti vai dritta verso le conseguenze che tu vuoi evitare E a ricordare queste parole è lei stessa davanti al procuratore aggiunto Marco Gianoglio E al PM Mario Bentoni E a tre militari della Guardia di Finanza che stanno indagando sui conti bianconeri E ancora Mi dimisi perché capì che stava crollando tutto Il mio avvocato mi avvisò non approvare il bilancio Nonostante le dimissioni di Mario Lungo Le conversazioni per le assemblee che dovevano approvare il bilancio Le arrivavano comunque con la moltivazione Se ti dimetti crei un danno irreparabile alla società Ma in questo momento entrò in scena l'avvocato personale dell'ex consigliere indipendente Che minacciò di denunciare tutti se le dimissioni non sarebbero state ratificate Da quel momento nessuno mi ha più cercato Se non per dirmi con un'email che avevano sbagliato a inviarmi quelle missive telematiche In base a quanto riportato dal quotidiano La Stampa Agnelli avrebbe parlato anche di persona con Mario Lungo Sulle intenzioni di dimettersi di altri due consiglieri in quota Exor Disse che avevano timore di essere indagati Se rimanete con noi andremo avanti fino alla fine in tutte le serie Voglio rassicurarvi che la società ha sempre operato nel modo giusto e nel rispetto della legge La spada di Damocle che ci rappresentavano Agnelli e Gabasio Era che se non avessimo approvato il bilancio Entro una certa data non ci saremmo potuti scrivere al campionato Daniela Marilungo è stata la prima ad andarsene Prima delle dimissioni di tutto il CDA Mi sono dimessa con un'email e raccomandata il 25 novembre 2022 Il giorno precedente sia Andrea Agnelli che John Elkan ci avevano comunicato a noi consiglieri indipendenti Che Laurence Dembrokes e Suzanne Cainwood Consiglieri indipendenti avevano preannunciato a loro volta le dimissioni Questa notizia fa scattare il timing delle mie dimissioni Intanto nella giornata di ieri la Juventus ha depositato il ricorso al collegio di garanzia del CONI Con la penalizzazione di 15 punti in fritta nell'inchiesta sulle plusvalenze registrate dai bianconeri L'anarchico Alfredo Cospito in carcere al 41 bis ha scritto una lettera in cui annuncia la sua intenzione Il più grande insulto per un anarchico è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini Quando ero al regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura Non ho mai spedito pizzini Ma articoli per riviste anarchiche Mi ero permesso di leggere, di evolvere Oggi sono pronto a morire per far capire al mondo cosa sia veramente il 41 bis Mentre 750 persone lo subiscono nel silenzio La missiva è stata letta dal legale Flavio Rossi Albertini Durante la conferenza stampa in Senato a cui partecipano tutti gli altri Il professor Luigi Mangoni e la parlamentare Ilaria Cucchi Sono convinto che la mia morte, si legge in un altro passaggio del testo Che ha superato la censura Porrà un intoppo a questo regime E che i 750 che subiscono da decenni il 41 bis Possano vivere una vita degna di essere vissuta Qualunque cosa abbiano fatto Amo la vita Sono un uomo felice Non vorrei scambiare la mia vita con quella di qualcun altro E' proprio perché la amo Non posso accettare questa non vita senza speranza La lettera era stata scritta mentre l'anarchico era detenuto a Sassari L'avvocato Flavio Rossi Albertini ha spiegato E' uno scritto passato per la censura La difesa ritiene di poterne dare lettera proprio perché il detenuto al 41 bis Non può fornire indicazioni ai sodali all'esterno Ma non è un soggetto a cui è stata tagliata la lingua o la mano Stiamo parlando di una battaglia di civiltà Aggiunto il legale Bisogna salvaguardare il diritto del detenuto di poter parlare Anche al 41 bis In queste righe non dà alcune indicazioni o ordini ai sodali Ma spiega perché Dal suo punto di vista non è possibile passare anni Una vita al 41 bis Cospito oggi nel carcere di Opera Continua ad assumere acqua e sale Secondo quanto ha riferito l'avvocato Margherita Pelazza Che l'ha incontrato oggi trovandolo lucido E determinato nel proseguire il suo sciopero della fame Da venerdì scorso Quando è stato riportato in carcere Dopo essere stato ricoverato all'ospedale San Paolo Nella sezione destinati ai reclusi L'anarchico ha fatto sapere di avere sospeso l'assunzione degli integratori Grazie a tutti Radio Zimmari A tenervi compagnia nei vostri momenti di allegria o malinconia Con Sasa Santomauro All right Torniamo, torniamo, torniamo a scada a ascoltare musica Sunset Disco Zimmari, amici In questo mercoledì, primo marzo The Rough Top KBB All right All right All right, my baby E ricordo agli amici Che questa è Radio Zimmari Che trasmetto da Panarea Isola Isole Olia 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 E per gli amici di Oltruceano From Sicily 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 E Olia E Olia Panarea 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 I sogni Sono sempre accompagnati da una colonna sonora Radio Zimmari Il sogno di una vita Ascolta Radio Zimmari C'è più facile La radio Un lavoro per chi ha profonda passione nell'anima E voglia di trasmettere emozioni Radio Zimmari Pura emozione Noi con Radio Zimmari ci siamo E voi? Dead Off Top Mar Amici KB Vince All right Come on E siamo già a metà settimana Per tutti gli amici Per voi Per noi We can Arriva Radio Zimmari Web E Sasa Santomauro Presentano Sunset Music A Panarea La musica alla radio È la febbre di un sogno condiviso Un'allucinazione collettiva Un segreto tra milioni E un sussurro all'orecchio di tutto il mondo Radio Zimmari La tua radio Butta l'ancora sulla baia di Zimmari A Panarea E sintonizzati su Radio Zimmari All right There Off Top Mar Per voi Per noi Per voi O no O no Stick Zimmari Ben arrivati anche i nostri amici di Salina Radio Zimmari Questa è Radio Zimmari Che trasmette da Panarea Una delle sette isole eoli In studio Sasa Santomauro Alla regia Nadia Solange Prendi il tuo tempo Ascolta Radio Zimmari Web E a Panarea Una delle sette isole eoli E beh Arriva il nostro Barry White italiano amici On the more Mario Biondi Dell'album Brazil Bucca Rioca Yeah Come on There I go When the moon is aglow In the sky All right Come on Funky beat Feel the heat Where the kick Of the drums Gets you High I like the way The crowd is moving Like the way It's grooving Got this place Swingin' tonight Dancing Shaking by the door And I adore And I adore How she's dancing For me The night Is calling With you Under ocean You've got a look Da Panarea Radio Zimmari Con SSA Santomauro Tuffati su Radio Zimmari Web Un tuffo sull'isola più bella La musica più bella Grab a seat Watch the show Even though She's dancing for me Like a star Shining bright She can light up The place With her smile I like the way When a girl is turning Man, my soul is burning God, the club is swinging tonight She's a dream in the dark She's a spark She's a night in my heart She's so magical She looks so beautiful Gotta look Gotta dance Take a chance With the girl of my dreams Well, well, well I'll make it Coração Drive to be crazy Coração All this Spillabberry White Italiano, amici Mario Biondi Dall'album Brazil E il brano estratto Per voi On the moon Mario Biondi Biondi Mario Mario Biondi Be crazy Coração All this place Is so amazing Coração 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 Oh, Brazil L'album di cui abbiamo estratto On the moon E noi continuiamo ancora, amici Ancora per poco Ma continuiamo Sempre E arrivano E arrivano Uh, be, be Radio Zimbani Che trasmette da Pararea Radio Zimbani Suggestioni sonore Da sentire e da vivere Da musica alle tue orecchie Informazione alla tua mente Compagnia alla gente Non isolarti Radio Zimbani La tua isola di musica La tua isola di musica One station One nation One nation Moustache Station Station Nation One One Station Station One One Nation 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 Grazie a tutti. 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 Poi mandate un messaggio, eh, se ho fatto la pronuncia giusta. Salutiamo l'amico Roberto. Buzzalli. Buzzalli. E poi tutti gli amici che sono lì in Indonella. So che c'è qualcuno. Salutiamo tutti, tutti, tutti quanti. Voi, 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 voi e noi, qua, 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 a morire di freddo. Grazie a tutti. Grazie davvero ai nostri amici siciliani da Taormina a Giordini, salutiamo Roberto e Alessandra. Salutiamo gli amici di Parma, salutiamo gli amici di Parma, salutiamo anche Ferrara, Modena, Bologna. Salutiamo gli amici di Parma, salutiamo gli amici di Parma, salutiamo gli amici da Stropoli, a Lipa, a Salina. Filiquidi e Aliquidi. E perché no, anche Vulcana. Anno, anno, anno. Amici da Santomauro è davvero tutto, ancora una buona continuazione di serata. Mi raccomando sempre il motto di Radio Ziba. Non combinate e cazzate. Perché la vita è bella. La bella vita. Tosta. Amici, un abbraccio forte. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Buongiorno e Oli. Dalla live di Sasa Santomauro. Latino America, dalla live di Nadia Solange. In serata, Sunset Disco Zimmari con Sasa. La radio che ti tiene compagnia tutti i giorni. L'orario lo scegli tu. Quello che ti tiene compagnia tutti i giorni. Tutti i giorni.